Buongiorno a tutti dalla spelonca di Adulam. Stavo pensando questa mattina, e anzi ieri mattina l'idea mi è venuta, che qua nella capanna voglio aprire una finestra dietro perché il sole colpisce dietro e non ho finestre. Allora facevo un piccolo finestro in alto, così quando apro la porta la mattina non vedo questa scena buio ed esolante, ma vedo un qualcosa di luce, mi manca la parola. Shaft in inglese. Allora mi faceva pensare che nella psicologia, che io ho un po', non ho studiato, è troppo, sono andato in psicoanalisi diversi anni, queste cose, c'era un tempo che era di moda e avevo più soldi che senso. E allora si dice, e penso che sia, ho sempre provato elegante, è vero, che la luce entra in una persona attraverso le crepe. non so se l'avete sentito. Cioè, sono i nostri imperfezioni che ci animano di luce. E pensavo, ma guarda, che questo è proprio biblico. E mi venne in mente il cinquantesimo, cinquantunesimo salmo di Davide, dove dice, Mi sembra un concetto simile, ed è vero, no? Dio ci usa quando siamo, abbiamo finito di cercare di farlo da noi perché siamo distrutti. E allora Dio può fare un lavoro nella nostra vita. come fa con me perché dopo tutta questa malattia venne alla fine di un periodo di grande disubbidienza da parte mia, ma non me ne accorgevo. Di indulgenza, di allontanamento poi sostanzialmente da Dio, nonostante le mie letture continue. Allora ho sentito la sua rabbia come un padre fa come un figlio errante e mi sta benedicendo la vita adesso perché ho cambiato la mia dieta, sto facendo una dieta disintossicante, sto tutte quelle cose della salute, insomma, che avevo lasciato correre basta. Adesso mi ha ricordato che ho che devo vivere una vita sana, sana, assolutamente sana e quindi è in linea ai principi biblici. Lo sapevo già, però, sai, buongiorno di nuovo. ho, ho, ho,